il lama allora ciao a tutti da svideo ciao a tutti da svideo dunque oggi è il compleanno di cesare che il fratello di ello è il suo compleanno quindi gx cesa e gli regalo il ballo il silenziatore allora gx cesa riceverà il silenziatore il silenziatore acquista un dono ok invio regalo in corso ecco perfetto gx cesa possiede già quanto fa vabbè perché adesso nel senso che io adesso glielo dato che questo qui allora niente volevo fare tantissimi auguri tantissimi auguri buon compleanno a cesare cosa devo dire ti auguro il meglio del meglio passa una bella giornata sono sicuro che fai fare un bel pomeriggio di festa molto divertente molto carino quindi insomma tanti auguri a te tanti auguri a te tanti auguri a cesare tanti auguri a te spero che ti piaccia questo il silenziatore stordisci di fa parte del set regime prima apparizione capitolo 2 stagione 7 insomma spero che ti piaccia ancora tanti auguri buon compleanno salutami tuo fratello ello che poi lo vedrò su worldzone prestissimo stasera e niente cosa vuol dire adesso tra poco parto con la live anche perché oggi già abbiamo mangiato un po più tardi quindi sono un pochino in ritardo comunque niente questo lo carico come video e niente tanti auguri buon compleanno ancora ciao cesare abbiamo ancora abbiamo giocato poco insieme abbiamo giocato delle volte quando c'era anche tuo fratello però magari dell'altra volta e torni a giocare con me ok e niente auguri buon compleanno cesare ciao 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 tutti e ciao tutti e